ma è sicuro che è un'altra volta ma è potente che è un odore che è rimasto è qui lì è qui lì, non fino a ultimo ehi 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 non ti impasto dai che ci vedi per chi arriva l'ambulanza scusate, vogliamo chiare che cosa, aspetta aspetta vabbè, l'azienda è già finita, fanno il video fanno il video, fanno il video fanno il silu cane per favore ah, la capo, aspetta aspetta, riprendo la capo del lucane vede Giacomo questo è qua, ci immagliamo non si, no, vada inizia l'udio da 5 minuti questa qua non la lagliamo no, per qua si 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 se poi ti senti con Fabrizio, con qualcuno con la dottoressa dell'empa ci serve il veterinario guarda, proprio adesso l'abbiamo tirato fuori il cane in questo momento quindi aspettiamo un'ambulanza Cristian tienimo fermo che non lo fai guarda 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 Grazie a tutti